Radio Zimari Web e Sassà Santomauro vi presentano la diretta di oggi, solo musica da discoteca. Radio Zimari Web e Sassà Santomauro presentano Sunset Music a Panarea. Radio Zimari Web e Sassà Santomauro presentano Sunset Music a Panarea. Radio Zimari Web e Sassà Santomauro. Radio Zimari Web e Sassà Santomauro presentano Sunset Music a Panarea. Radio Zimari Web e Sassà Santomauro presentano Sunset Music a Panarea. Radio Zimari Web e Sassà Santomauro presentano Sunset Music a Panarea. Buonasera agli amici di Oltreoceano, buonasera all'Argentina, nonché agli States e poi al New Mexico. Radio Zimari Web e Sassà Santomauro presentano Sunset Music a Panarea. Radio Zimari Web e Sassà Santomauro presentano Sunset Music a Panarea. Radio Zimari Web e Sassà Santomauro presentano Sunset Music a Panarea. Radio Zimari Web e Sassà Santomauro presentano Sunset Music a Panarea. Radio Zimari Web e Sassà Santomauro presentano Sunset Music a Panarea. il frigo buonasera agli amici dell'arcipelago e voi vi siete già preparati eh? siete pronti? e panarea c'è eccoci qua e tanto salutiamo l'amico Nando e poi salutiamo l'amico Adriano Taranto nonché l'amico di una vita gli amici di una vita Francesco, Luca, Andrea, Gianca Arro, Arro, Arro e oggi siamo un po' in fuori forse perché si sta per concludere questo 20-22 alcuni sperano che sia migliore altri sperano che sia come questo anno che sta per finire e c'è un po' di contraddizioni un po' su tutti quanti e noi amici BANDU BANDU Radio Zimari Web la radio con la R maiuscola e intanto noi amici non perdiamo tempo disco pilota arriva Giorgezza e Gioha Jax Juane con Dance All Over Me a Radio Zimari amici che trasmette da Panarea Isole Olio e studio a tenervi compagnia cioè stasà Santo Mauro in queste poche ore prima della conclusione del 20-22 amici eccoci qua pronti 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 a Radio Zimari 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 Grazie a tutti. Dance all over me, amici, Jax, Jonas e Giorgio Eczka. E noi siamo pronti a ripartire, amici, arrivano, let's talk on Where Did You Go. Si parte, sempre. Vai, 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 vai. A Pudda. A Pudda. A Pudda. Tuffati su Radio Zimmari Web, un tuffo sull'isola più bella, la musica più bella. Tuffati su Radio Zimmari, con Sessa Santomauro. 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 Inubiamo ancora, arriva Nervo con Giving It All. Questa è Radio Zim, amici, che trasmette da Panarea. Se sei a Santo Mauro a tenervi in compagnia in questo 31, sabato, lunedì, sabato, sabato, 2022, aspettando il 2023. Radio Zim, amici, l'atmosfera giusta per voi. Ciao, 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 ciao. Indossa le cuffie o accendi il tuo impianto, prezzati uno spritz o stappati una birra e goditi la nostra musica. Grazie. 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 A Radio Zimma, amici, a tenervi in compagnia in questo fine di 20-22, c'è San Santumano. Radio Zimma, di un'atmosfera giusta per voi, sempre per voi. Radio Zimma, di un'atmosfera giusta per voi, sempre per voi. Radio Zimma, di un'atmosfera giusta per voi. Radio Zimma, di un'atmosfera giusta per voi, sempre per voi. Noi con Radio Zimma ci siamo, e voi? Radio Zimma, di un'atmosfera giusta per voi. Ascolta Radio Zimma, di un'atmosfera giusta per voi. Radio Zimma, di un'atmosfera giusta per voi. Radio Zimma, di un'atmosfera giusta per voi. E ricordo agli amici che si sono appena collegati. Ragazzi, state ascoltando Radio Zimma, di un'atmosfera giusta per voi. 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 e beh, e beh, e beh noi mica ci fermiamo e continuiamo ancora, diamo qualche notizia giusto per informazioni dovute e ancora amici Calide Scopa e Back Hill Crazy with Love Kendu a Radio Zimari sempre con voi Calide Scopa Cover me in gold But nothing naked by me Live my heart whole Given up on romance Then I found you Ain't it crazy what love can do Crazy what love can do Can someone tell me what has happened to me You're my heart And now I can find free Didn't care for anyone Until it was you Ain't it crazy what love can do 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 E ricordiamo anche amici la scomparsa del papo e del papa emerito Benedetto sedicesimo e giunta la notizia della morte di Rezengar il papa emerito dopo la notizia dell'aggramarsi delle sue condizioni di salute arriva oggi la notizia della sua morte Amici arriva la notizia appunto della morte di papa Uitio il papa emerito è stato il duecentosessantacinquesimo papa della chiesa cattolica successore di papa Giovanni Paolo II La sua elezione è avvenuta il dicianno aprile duemila e cinque ma per problemi di salute ha interrotto il suo pontificato il ventotto febbraio duemila e tredici il suo successore è stato papa Francesco il cui pontificato è tuttora attivo con dolore informo che il papa emerito Benedetto sedicesimo è deceduto oggi alle ore nove e trinta quattro nel monastero Mater Eclastia in Vaticano questa è la dichiarazione del direttore della sala stampa della santa sede Matteo Bruni le parole di papa Francesco una preghiera speciale per il papa emerito Benedetto che nel silenzio che nel silenzio sta sostenendo la chiesa è molto ammalato che Dio lo consoli e lo sostenga fino alla fine in questa testimonianza di amore alla chiesa queste le parole di papa Francesco nei giorni immediatamente dopo Natale avevano preoccupato i fedeli Matteo Bruni il direttore della sala stampa della santa sede aveva poi annunciato in risposta alle domande dei giornalisti in merito alle condizioni di salute del papa emerito per il quale il papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell'udienza generale di questa mattina posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all'avanzare dell'età la situazione al momento resta sotto controllo seguito costantemente dai medici e poi diamo una piccola notizia così riguardante Pelè la storia della sua auto tutti conosciamo cosa ha fatto Pelè carciatore i suoi numeri hanno fatto la storia del carcio internazionale ma in pochi sanno che era anche un grande intenditore di automobili ecco alcune delle automobili delle sua della sua collezione con degli aneddoti sfiziosi sulla vita di questo super campione e come si dice sempre il primo amore non si scorda mai lo sapeva il brasiliano che a solo 18 anni ha avuto tra le mani questo splendido modello di maggiorino della Volkswagen fortemente legata a questa vettura l'ha conservata a lungo per poi vendendola solo recentemente per pagarsi di cure per poter guidare Lex Santos ha raccontato su Instagram proprio del suo istruttore per la patente che gli disse se ti fai una foto con me ti insegna a guidare grazie la vettura del brasiliano la Mercedes V111 è altra auto speciale per il famoso calciatore Pelé l'ha ricevuta in dono proprio dalla casa costruttisce tedesca per il suo millesimo gold rimase a lungo col brasiliano fino a quando decise di scambiarla con la 270S poi venduta a sua volta solo nel 2004 Mercedes decise di rintracciare quel modello V111 per poterla restaurare e ridare e ridare alla fuoriclasse Pelé era anche amante di automobili particolari come Aereo Willis 2600 ricevuto dopo il vittorioso mondiale del 1962 in Cile o il modello Iso Isetta caratterizzato da un'unica grande portiera e poi per concludere grandissimo amante della Formula 1 memorabile quell'episodio in cui durante il Gran Premo del Brasile del 2002 commesse una grande gaffe perse l'arrivo del vincitore Michael Schumacher sbanderando solo all'arrivo di Takuma Asato che però aveva due giri di ritardo dal vincitore della corsa amici queste sono le uniche notizie di Radio Zimari e noi continuiamo ancora con la nostra musica con la dance music di Radio Zimari in compagnia di Sasa California Dream Verdun Remix del Commissar California Dreams 2023 a Radio Zimari Lui è Sasa Santomauro corpo mente anima di Radio Zimari Web Dio Just run base all the balls Musica Musica Radio Zimmer e Web vi presenta lui, lo speaker del 2022, Sassà Santomauro. Musica Music 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In compagnia di Sassà. Ricordo gli amici che si sono appena collegati. Come dicevo prima che questa è Radio Gimmar che trasmette da Panarea. E per voi amici gli oltruceani che ci ascoltate con affetto e con amore siamo in Sisi V. Musica Ciao. Musica 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 Da una delle sette isole Oli, Panarea, arriva lui, Sassà Santomauro da Radio Zimmaric. Musica Tutto sommato è importante che ci ascoltate, da dove ci ascoltate, la vostra nazionalità non è importante, vero? Musica Musica Sassà Santomauro, un tuffo nella musica migliore. Musica Musica Radio Zimmarie, la passione per la musica. Musica 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 ti scomparlo amici e continuiamo ancora noi mica ci fermiamo eh voi vi fermate io no voi nella vita puoi fugire da tutto ma non da radio Zimari lei racconti ovunque andrai lei racconti ovunque andrai e arriva anche a lei amici in questa serata dedicata allo Sunset Dance Music Katia Rodriguez e Cara preferisco te te preferisco il mio quartiere per gente per niente per bene le finte alle stronze vere preferisco il fumo alle ciminiere radio Zimari web vi presenta lui lo speaker del duemilaventidue Sassà Santo Mauro dei vestiti dieci carati dentro i rifiuti mentre io esco a fumare mare e il male che cola in un mare mare se torno dentro non sento più te chiamami chiamami alle vare agli anni ottanta preferisco te anche al cielo in una stanza preferisco te e non c'era nessuno che diceva sbagliato ogni volta che lo faccio preferisco preferisco e noi continuiamo ancora amici sta per arrivare Touch of Class yeah Radio Zimari è fatta fondamentalmente di due cose che non cambieranno mai due che parlano Nadia e Sassà è un disco che suona Zappanaria Radio Zimari con Sassà Santo Mauro zinza hadn't confusini ravaggiore Grazie a tutti. Radio Zimari, amici, l'atmosfera giusta per voi che trasmette da Panarea. 31, 12, meno 3 alla conclusione di questo 2022. Radio Zimari, l'atmosfera giusta per te. La 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 person a radio zimmeri amici intengo che mi dà la paneria radio zimmeri con ssa santo mauro tutto quello che cerchi musica informazione intrattenimento lo trovi in una sola radio radio zimmeri web la tua radio radio zimmeri suggestioni sonore da sentire e da vivere la musica alla radio è la febbre di un sogno condiviso un'allucinazione collettiva un segreto tra milioni e un sussurro all'orecchio di tutto il mondo radio zimmeri la tua radio e vedo già chi qualcuno mi scrive che si sta avviando verso il ristorante dove si festeggiano dove si festeggia la chiusura è l'inizio del 23 beati voi ragazzi beati voi il problema qui di panarea ormai è stato scritto riscritto sul notiziario sul giornale di sicilia ma purtroppo non c'è neanche un locale aperto anche se uno volesse andare a bersi una cosa o fare un po' di divertimento ecco non 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 si può non si può questo è l'italia amici ma questo è il radio zimmeri amici che continua con be with you that's so e david mayer con be with you come on radio zimmeri web e sasa santomauro presentano sunset music a panarea musica 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 Grazie a tutti. 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 Radio Zimari Web e Sasa Santomauro presentano Sunset Music. A Panarea. Grazie a tutti. 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 Agli amici. Agli amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.